Molti cremonesi sono preoccupati per il possibile aumento del costo della loro polizza auto sulla base dei dati pubblicati dal noto portale facile.it che riporta un confronto fra dicembre 2021 e dicembre 2022. L'aumento medio del prezzo su Cremona sarebbe del 6,9%. Alcune testate locali hanno già lanciato l'allarme, anche per chi al volante è più virtuoso. Ma è proprio così, abbiamo chiesto ad un esperto del settore di spiegarci chi effettivamente subirà gli aumenti. Dietro c'è semplicemente il fatto che i clienti fanno sinistri, sinistri passivi e facendo sinistri passivi quindi con colpa e responsabilità la classe di merito scatta di due classi. Quindi per esempio se uno in decima va in dodicesima, se uno in prima va in terza è chiaro che il passaggio di due classi provoca un aumento. Ma sulle persone che non hanno sinistri niente influisce, non c'è nessun aumento. Quindi la tariffa delle assicurazioni, dei premi RC auto aumenta di un anno con l'altro ma comunque con gli scontri a disposizione sia della compagnia che delle agenzie non c'è nessun aumento. E oltretutto mi piacerebbe vedere come fanno a trovare questa media. Ci sono 40 compagnie a Cremona che operano sul mercato, se non 40 saranno 30, 35. Hanno le tariffe di tutti? Hanno i sinistri di tutti? Come fanno? Non è altro che una butata pubblicitaria per facile.it e per qualcuno che c'è dietro che chiaramente mangia su queste cose, denigrando il mondo assicurativo quando invece è un mondo corretto, pulito, onesto con persone che lavorano tutti i giorni per il meglio dei loro clienti. Difficile anche quantificare se vi siano variazioni del livello di sinistrosità per una stessa provincia. La mia percezione è che la sinistrosità va a periodi, non c'è una statistica dove dire oggi quest'anno è più sinistrato, più sinistroso, l'anno scorso è meno sinistroso, dipende. Le strade sono più scivolose, è ghiacciato, nevica, più gente è tremolante alla guida, quindi fa sinistri. Non esiste una statistica di sinistrosità a Cremona. Posso solo dire che il discorso dell'agenzia assicurativa dà un servizio al cliente.